niente proprio 18 ricotto all'atterrato negativo da Alfa non è sceso nessuno ha fatto una finta prioritario da Bravo avanti Bravo abbiamo il SUV che avevamo identificato prima che sembrava intervento rapido 060 in avvicinamento su posizione di Charlie ho ricevuto a prestare attenzione in visual luci spente macchina macchina trattenete trattenete le parti speciali dove dovrò essere le parti speciali non sparate le parti speciali erano le parti speciali erano le parti speciali sono stati abbattuti grazie a tutti